Da ieri sera hanno deciso di farsi ospitare a Pescara in strutture gestite dalla Caritas. Sembra dunque rientrare l'emergenza degli sfollati del ghetto di Via Riosto a Montesilvano che dopo un tira e molla durato diversi giorni hanno avallato la nuova sistemazione. Non sono mancati momenti di tensione in questo periodo da quando, lo scorso 31 maggio, a seguito di una vasta operazione interforse, sono state sgomberate le palazzine di Via Riosto occupate da africani, per lo più senegalesi. Se un centinaio di loro avevano provveduto a trovare un'autonoma sistemazione, per gli altri, una ventina, la situazione era diventata complessa poiché si erano da subito opposti alle sistemazioni alternative proposte dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Maragno. Solo un paio di anziani aveva detto sì alle strutture della Caritas. Il drappello dei residenti si era invece accampato nel tratto di spiaggia libero a ridosso del curvone della riviera tra i grandi alberghi e lo stabilimento Tamanaco, dormendo all'interno delle tende lì sistemate e stazionando stabilmente a ridosso della pista ciclabile, sempre sul lungomare. Uno stato delle cose che aveva generato tensione tra cittadini e balneatori che nella zona hanno le attività. Tanto che le forze dell'ordine hanno comunque mantenuto dei presidi fino a intervenire con una nuova operazione interforse che aveva permesso di censire 17 africani, 10 dei quali irregolari. Proprio mentre il sindaco Maragno si accingeva a utilizzare il daspo di sicurezza urbana del decreto Minniti, la diplomazia ha avuto la meglio e nel tardo pomeriggio di ieri gli ex inquilini di Via Ariosto hanno di nuovo incontrato il primo cittadino, hanno dato parere favorevoli alla nuova sistemazione e sono stati accompagnati in pullman nelle strutture Caritas di Pescara.